Quando a Procida partirà questa vaccinazione? Allora, stiamo lavorando affinché già da sabato ci possa essere questo risultato, quindi potrebbero essere quattro giorni intensi di vaccinazione, per cui nel frattempo quello che chiedo a prescindere a tutti i cittadini è di registrarsi sulla piattaforma, anche a prescindere da quelle che saranno le loro scelte del momento, perché poi potranno decidere di aderire oppure no concretamente al momento di vaccinazione, anche ciascuno facendo delle valutazioni personali, però nel frattempo è importante registrarsi di modo tale che quando ci sarà l'opportunità ciascuno potrà decidere, viceversa se non ci si iscrive non ci sarà l'opportunità di poter decidere, quindi siccome è imminente l'appuntamento, quindi stiamo parlando neanche tra 48 ore si potrebbe cominciare, chiedo di sfruttare queste ultime ore per registrarsi e per assicurarsi che i propri congiunti, amici e parenti abbiano fatto già lo stesso. Grazie.